Eccoci qua amici, una delle parole che mi sentite più dire tra settembre e ottobre è non mangia perché c'è il turnover, ma che cos'è questo turnover? Vediamo di spiegarlo in parole povere, ci provo, ok? In estate l'acqua tende a stratificarsi, cioè c'è molto caldo sopra e molto freddo sotto. Nel momento in cui noi arriviamo nel periodo autunnale, come settembre e ottobre, il vento inizia a rimescolare l'acqua, quindi il vento e le perturbazioni tendono a raffreddare l'acqua nella parte superficiale appunto dello specchio d'acqua, quindi l'acqua diventa pesante, cala e scende verso il fondo, quindi inevitabilmente si mischia l'acqua che c'era sopra con l'acqua che c'era sopra, che c'era sotto, compreso l'ossigeno, quindi questo ossigeno viene mescolato continuamente, viene disciolto in tutto lo specchio d'acqua. Il bus per adeguarsi a questa cosa, questo cambiamento, sapete benissimo che sia la temperatura che l'ossigeno sono molto importanti per il bus, tende ad essere molto spaisato, praticamente va ovunque, tende ad alimentarsi poco e ci vuole del tempo per cui lui si abitui appunto a questo spostamento, a questo cambiamento, quindi questo ci porta ad avere il pesce praticamente sparso ovunque, inizia a sospendere, è difficilissimo da trovare, mangia pochi minuti al giorno, quei pochi minuti al giorno che mangia a volte mangia anche piccolo. In linea generale comunque i pesci piccoli tendono a mangiare abbastanza spesso, anche tutto durante l'acqua della giornata e invece il pesce grande è molto concentrato solamente da alcuni orari, questi orari possono cambiare continuamente. In linea generale comunque la mattina presto e la sera tardi sono sempre momenti in cui il pesce può essere più in attività perché c'è meno luminosità eccetera eccetera, quindi sicuramente quei due orari lì vanno meglio, ma anche qualche orario sparso durante la giornata, quindi questo turnover, questo rimescolamento dell'acqua calda con l'acqua fredda, con l'ossigeno che si discioglie e poi arriva il vento e questo abbassamento della temperatura in generale tende a rendere il bus più apatico, meno attivo e anche più difficile da catturare. Cosa faccio in questi casi? Tendo a battere molta acqua o ho un posto dove ci sono molti pesci e loro tendo a stazionare lì ed aspettare che arrivino oppure inizio a battere molta acqua, mi sposto molto rapidamente, faccio tanti lanci alla ricerca di un pesce bello attivo o comunque dei pesci che ci sono attivi. Quali sono le esche che uso più spesso in questo periodo sono senza dubbio uno shad, uno shaddino che a me piace molto, che mi fa battere molta acqua e mi aiuta a coprire anche le zone dove con le altre esche mi posso incagliare, quindi cercato molto lentamente oppure anche molto rapidamente ma comunque lanciato contro la sponda all'ombra, oppure un bel chatterbait che mi fa battere molta acqua, poi uno spinnerbait anche lui fa battere molta acqua e assomiglia allo shad, quindi al pesce foraggio di cui è molto presente, tutti i specchi d'acqua sono molto presenti in questo periodo dell'anno e di cui il bus è veramente ghiotto in tutto l'arco dell'anno e poi un cranchettino, il mio cranchettino sciallo che non scende troppo, che mi fa battere molta acqua e mi fa prendere i pesci anche più apatici, anche quelli che mangiano un po' corti, in questo periodo molto incasinato il bus mangia corto, mangia male, quindi con le ancorette di cui il mio crank è munito è più facile che resti attaccato e quindi riesco a salparlo, quindi tutti a pesca anche nel turnover, provateci, non mollate, provate, insistete e state tanto tempo in acqua, più lanci fate più è facile che vi arrivi un bel pesce, in bocca al bus!